Vogliamo parlare ai ragazzi, vogliamo parlare ai ragazzi ma vogliamo parlare anche ai genitori. Vogliamo che i ragazzi riportino a casa quello che noi diciamo. L'amore che è il tema dominante di questa manifestazione non è soltanto dipingere un quadro ma avere amore per se stesso, esprimere le proprie emozioni, i propri sentimenti. Ecco noi insegniamo ai ragazzi che molte volte l'espressione dei propri sentimenti su strada diventa pericoloso e dannoso e quindi insegniamo ai ragazzi quello che bisogna fare su strada proprio per l'amore che ognuno ha verso di sé e verso la collettività. Le pillole sono pillole di legalità, sono pillole di civiltà, di senso civico che sono in ognuno di noi e che noi insieme ai ragazzi vogliamo discutere ancora per fare in modo che la situazione che purtroppo abbiamo sugli incidenti stradali sia cambiata proprio dall'interno delle nostre famiglie e dall'interno delle nostre coscienze. Quindi io ringrazio Maela per questa grande possibilità che dà alla Polizia Stradale di esprimere le proprie emozioni ma di farlo in maniera legale proprio perché l'amore è alla base della nostra vita. Grazie tanto.